Siracusa edifici scolastici, la regione finanzia le verifiche strutturali. Priorità ai plessi scolastici di proprietà del Comune di Siracusa con un finanziamento importante di quasi 400.000 euro che, aggiungendosi a quello di oltre 200.000 euro del 2021, permetterà agli uffici comunali di avere un quadro completo della tenuta strutturale dei nostri edifici scolastici, della loro sicurezza, del loro livello di antisismicità. Il Comune di Siracusa ha avuto così finanziate per un totale di 390.000 euro 16 richieste di indagini geognostiche e di verifiche strutturali, volte all'ottenimento della certificazione di vulnerabilità antisismica. Questo studio ci indicherà le priorità di intervento per mettere in sicurezza gli edifici comunali che ospitano istituti e plessi scolastici nell'interesse dei nostri studenti, dei nostri insegnanti, dei nostri operatori scolastici, dichiara il Sindaco Francesco Italia. Il decreto dell'assessorato regionale dell'istruzione, ufficio speciale per l'edilizia scolastica e università, fa riferimento al POFES 2014-2020, azione 10.7.1, investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente. Nel dettaglio gli immobili di proprietà comunale che in alcuni casi ospitano classi o plessi di diversi istituti scolastici sono la palestra di via di Villa Ortisi dell'Archimede, la cui ristrutturazione è già stata peraltro finanziata per 200.000 euro, la struttura di piazza Gorielo dell'Istituto del Belvedere, l'immobile di via Monsignore Caracciolo che ospita il CPA Manzi, oltre a Classi del Martoglio, la struttura di via Augusta che ospita il Martoglio, quella di via Pordenone dell'Istituto Raiti, l'immobile di via Gela della Geracà e quella di via Caduto di Nasseria dell'Archimede, la palestra dell'Archimede di via Caduto di Nasseria, la struttura di via degli Olivi che ospita a Cassibile Comprensivo, Gardeni e Falcone Borsellino, gli immobili dell'Archia di via Montetosa 1 e via Montetosa-Monte Grande 1, la struttura di via Cavaliere di Vittorio Veneto con il Galileo a Belvedere, l'immobile di via Asbesta con Aule del Geracà, Archie e Martoglio, la struttura di via dei Giglie del Falcone Borsellino, quella di via Basilicata del Kindemi e quella di via Reggiacorte che ospita Vittorini e Materna Reggiacorte.